Ciao a tutti amici, benvenuti su questo nuovo video Siamo in compagnia di un esservivente nuovo Ma prima di presentarvelo, questo è un personaggio che mi ha detto Ehi Jack, ti piacciono le macchine? No Ehi Jack, ti piace il calcio? No Ah bene, devi sapere che insieme sono una figata Quindi adesso ti faccio giocare a Rocket League Vi presento, Park Ciao a tutti Siamo qui Però non mi devi disturbare mentre lo faccio lì Va bene, allora Andiamo a spaccare Sì, prima di spaccare Accettarti, cioè da entrare nel Yeeeeh Park, ti ha invitato, ho capito Ancora, fatta Bella, vedi che adesso c'è anche la mia macchinina Perché sembri uno stegosauro? Perché io sono uno stegosauro I'm a stegosauro I'm a stegosauro Ehm, cosa si fa? Io non ho mai giocato Stiamo nella mischia con una partita proprio easy, dai Classificate Eh? No No, no Perché no? Dai, volevo farmi sclerare in faccia dalla gente Perché ti mangiano vivo fondamentalmente Perché se non la gente non lo capisce Perché se non la gente non lo capisce Cos'è? Stiamo entrando in partita Wow Ok Li vedi? Io li vedo Io sono dietro Dai Perché io sono davanti Ecco come Vai su palla come se non ci fosse un domani Eh, palla La palla La palla Goal Wow, siamo bravi Wow Siamo partiti già così Wow Guarda io quanto sono Come si fa a turbare Che io non lo so Eh, tu stai giocando la tastiera E Dovrebbe essere col mouse Se non mi sbaglio Viva, non mi ricordo il tasto Vai su palla, vai su palla Ok Capito Palla Sai Non ci presi Non ci presi Devi uscire dal di qua Devi prendere i turbini Per Quei cosini gialli Per Per turbarmi Per turbarti Eh, no, aspetti Eh, ma Mi raccomando Torna in porta Sempre Chi sta davanti Va sempre su palla In questo caso Siamo io e te Quindi turba Turba, turba E ruba la palla Va Esatto Torna a difendere porta Non presi Mi raccomando L'importante in questo gioco Se si gioca insieme È Unicare Vedo la palla Vedo la palla Vendo la palla Vendo la palla Che botta Ma ci sono le armi Qui Non me l'avevi detto Non ci sono le armi Eh, perché sono esploso Perché se uno Turba Più di te Ti viene addosso C'è un respawn Oh, che botta No, dove vai Macchinina Eh, no Sta cercando di Inzionare No Ha questionato bene lui In questo caso Ok Ok 1995 Bravo Bravo Che lei è nato Soltanto un anno dopo di noi Esatto Bravo Danny Eh Su palla Sono io Vai Rimani Vai Defendere la porta Eeeh 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 Ok Ok Volo come un aquilone Eh, non ci prese Turba Turba Es Vola come un aquilone Eeeh Bravissimi Bravo Bravo Beowulf 1988 Che è più anziano di noi Di un sacco Sì E fa un gol incredibile Ascolta ma io posso fare il commentatore Di sto gioco di P***a Ma guarda che fare il commentatore Di sto gioco È una bomba Secondo me Ah, io qui devo aspettare qua Perché sei davanti voi Esattamente Vedi che incominci a capire Più o meno Come funziona Più o meno che più ragazzi Eh 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 No sbagliai Non si preoccupi No Non ci prese Non ci prese Tranquillo Oh, oh, oh No Eh, non ci prese Uh, uh Ti preso io Toglietela quella roba No, 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 no Bravissimo Sì, ma quello sono io Ho preso te Vada Presa Bravissimo Madonna, ma quanto aggressivi Bravissimo Ho preso uno Vai, bravi Bravi noi No, no, no Sì, non so Le angolazioni Non so Ok, ci pensa Berv Wolf Bravo Brav Wolf È mia È mia Vedo che lei ha una delle parti Della squadra importanti Pilastro importante Del gol Dai Tegas Ok, io sto in porta GG No Ok, ok Ci siamo Ci siamo Siamo tutti qui Ci sono, sono da solo Sono da solo Lo vedo Ma perché la macchina dovrebbe camminare sulle pareti? Che cacchio di senso ha? Io penso ci sia la gravità E non è vero Non c'è un senso a tutto ciò Devia la palla Sono su palla Palla la devia Sono da solo Bravo Brewolf Io stavo guardando da dentro la porta Si vede che è uno che gioca A me si vede che sono uno che gioca Ovvio ma tu sei un pro player Anche tu è molto bravo È quello che stava dentro la porta È mia la palla È mia E io ci sbagliai Ci sbagliai Madonna mi hanno seccato malissimo Ok bearwolf è in porta Ma perché non si capisce una mazza? È solo questione di orientamento Eh io non ce l'ho Ok dai Dai Aniketos Dai 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 No dove vai? Ma dove la manda lei? Sbagliai No non ci presi Non ci presi neanche io Però almeno ho provato a volare Come un aquilone Un minuto Un minuto Siamo bravi Siamo forti Ce l'avevo dritta io Ma perché lei È solamente la prima Dai Che cazzo vuol dire È solamente la prima Allora facciamo così La prima partita Te l'abbono È la seconda pure Perché non ti credereai mica Che migliora Siamo ancora in vantaggio Comunque Sei riuscito È spazzata la via Preso Eeeh ho toccato la palla Le gioie della vita Toccare la palla Pensavo fossero altre Invece che toccare la palla No no Già toccare una palla È una cosa Non di un signor anziano Ma di un signor anziano Infatti è questo che stavo dicendo In teoria dovresti Dovrebbero essere altre Giocare alle outpills Che giocano alle palle A te piace giocare con le palle Dato che ti piace sto giocare Ehi Ehi Grazie a tutti Grazie a tutti